Preghiera del mattino Sì, Signore, Tu sei davvero risorto. Questo è il fondamento della nostra fede. Tu vivi in mezzo a noi. Con la Tua morte hai sconfitto la morte e il peccato, e con la Tua resurrezione ci hai aperto le porte della vita eterna, facendoci accedere al trono della Tua grazia. Signore, guariscici per sempre dalla nostra cicità riguardo a noi stessi e alla realtà del mondo spirituale. Strappa il velo che ci nasconde il Tuo volto e facci penetrare la profondità dei Tuoi santi misteri. Apri il nostro spirito alla comprensione della Tua parola, affinché essa operi in noi e ci aiuti a raggiungere la perfezione dell'amore. Fa di noi dei veri apostoli, che come Pietro, Paolo e gli altri discepoli annuncino il lieto messaggio e manifestino la Tua presenza in questo mondo. Amen.